Volevo dire che questa è sempre la mentella che non è stato percorso diplomatico, non è stato fatto niente o è stato fatto poco dall'Europa per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Io non sono d'accordo perché dal 2014 fino al 2022 sono stati circa 200 round di negoziati tra Kiev e Mosca. Mosca sempre ha fatto saltare questi negoziati, poi sono stati fermati circa 20 accordi sul cessato del fuoco e non hanno rispettato, questo tutto non ha fermato Putin. Poi vorrei anche ricordare che dal 2015 ha lavorato il formato di Normandia, inclusa Germania e Francia insieme con Ucraina e Russia. E parlavano di risolvere questa guerra anche prima del 2022, sempre che guerra continuava nella parte orientale dell'Ucraina, cercavano in tutto modo di finirla. Poi ricordiamo anche prima del 2022 questa aggressione su larga scala, quanti leader europei hanno provato di parlare con Putin, quanti negoziati sono stati fatti e non è aiutato. E quindi per ora purtroppo troviamo in questa situazione estremamente critica sul fronte, dobbiamo andare avanti e purtroppo Putin capire solo il linguaggio della forza. E quindi quando libertà è minacciata con le armi, purtroppo oggi dobbiamo difenderla con le armi, ma non solo libertà degli ucraini, ma libertà di tutta l'Europa. Perché oggigiorno l'Ucraina sta facendo lo scudo della difesa anche europea, non soltanto quella ucraina, difesa degli europei e italiani pure compresi. Poi riguarda rapporti Russia-Ucraina dopo la guerra è chiaro che ora fare queste analisi molto prematuro, anche previsioni, perché è evidente che per i prossimi decenni rapporti tra la Russia e l'Ucraina diventeranno molto a distanza, molto difficili. Io penso che qua anche politicamente, anche nei questioni di difesa, anche i rapporti economici con la Russia saranno molto limitati, se non completamente interrotti. Perché è difficile prevedere che dopo Putin viene magari un presidente più liberale che chiede scusa, che magari anche perché prima, innanzitutto, per parlare di pacificazione o una normalizzazione ipotetica con i russi, innanzitutto la Russia deve liberare territori ucraini. Seconda cosa la Russia deve pagare, deve pagare risarcimento per tutto il danno che ha fatto. I russi devono rispondere davanti al tribunale internazionale o per il crimine dell'aggressione e per tutti i danni di infrastruttura che hanno causato al paese democratico che vuole semplicemente essere indipendente e sovrano. La politica manca e i cosiddetti liberali russi non vedono un futuro chiaro per la Russia nuova, la Russia post-guerra. Dilagano e non riescono a capire che cosa succederà dopo.